Non arrivava più questa partita, non arrivava più, il percorso non è stato facile, i ragazzi che sono rimasti sono stati bravi perché abbiamo fatto proprio allenamenti e under 15, però il ritmo ci manca, siamo sesti a 18 punti lo scorso anno, adesso abbiamo un giorno di ritorno molto complicato, dove dovremo riprendere la mentalità della squadra sparagnina, quella che va a prendere un punticino, perché quei tiebreaker persi fanno male, però oggi noi con quattro vittorie siamo sesti, quindi anche quei punti lì fanno comodo, poi dopo per la Coppa Italia è un campo importante, so che per noi la battuta la mette sempre dentro e ci fa dei danni, però adesso abbiamo del tempo, ma soprattutto dobbiamo crescere molto nel gioco, è stato un giro di andato dove abbiamo lavorato sempre solo nel cambio palla, cambio palla, cambio palla, cambio palla, adesso un po' di cambio palla lo lascio fare solo all'altra torre che ci pensi due un pochettino e dobbiamo sistemare certe cose nella fase punto, poi dopo è ovvio che siamo nel suo Trento e con umiltà dobbiamo andare a provare, da fastidio.